Ciao bimbi, oggi impariamo a fare tre note acute, il DO, il RE e il MI. C'è già qualcuno che sghignazza qui in classe. Allora, dunque, la prima posizione è questa, medio della mano sinistra sul secondo foro, pollice sul foro portavoce. Mi raccomando, quando si soffia bisogna sempre pronunciare la sillaba TU, ok? Quindi, prima posizione è questa, DO, poi per il RE togliamo il pollice e per il MI diventa un po' più complicato perché dobbiamo far scendere indice medio anulare della mano sinistra e contemporaneamente indice medio della mano destra, il tutto sincronizzato il più possibilmente veloce. Allora, quindi, la sequenza è questa, DO, RE, MI. Il tutto risulta in questo modo, ascoltate. Per la gioia dei genitori e dei vicini, provate a casa finché vi riesce e buon divertimento.